Il comune di Palermo si farà promotore di una iniziativa legislativa volta a contrastare il fenomeno. A voi tutti benvenuti ad una nuova edizione di Media News, appuntamento di sabato 24 gennaio. Inaugurato stamattina l'anno giudiziario nel distretto di Palermo, che vive una stagione di paura per l'allarme attentati. È stato inaugurato questa mattina a Palermo l'anno giudiziario 2015. Ivan Marino, presidente reggente della Corte d'Appello, nella sua relazione inaugurale ha voluto lanciare un grido d'allarme, un invito ai magistrati e alla cittadinanza tutta. L'alta funzione affidata ai magistrati di applicare la legge alla quale si stessi sono soggetti, ha detto, assume un carattere di laica sacralità, che immune da ogni atteggiamento di personale protagonismo non può prescindere dal carattere di indipendenza, imparzialità, di rigore, di obiettività. Poi la questione sicurezza per i giudici palermitani. La indubitabile e pericolosissima esposizione a rischi dei magistrati della requirente, con conseguente adozione di dispositivi di protezione mai visti, finisce per isolare e scoprire sempre di più i magistrati titolari degli stessi processi. Si sta verificando, ha aggiunto Marino, la stessa identica situazione degli anni Ottanta, allorché la protezione era garantita per lo più, se non esclusivamente, ai magistrati facenti parte dei pull antimafia, dell'ufficio istruzione e della procura. Un dato importante emerso durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario è relativo poi al boom dei femminicidi che si sono verificati nell'ultimo anno nel distretto giudiziario di Palermo, che include anche Trapani e Agrigento. Gli omicidi volontari contro le donne sono aumentati di cinque volte. In aumento anche le estorsioni e le frodi comunitarie. in calo, invece, tutti i reati contro la pubblica amministrazione. Regione Sicilia, sindacati scrivono a Crocetta e Bacei. Subito il confronto sui conti. A meno di 100 giorni dal 30 aprile, termine ultimo per l'approvazione del bilancio della Regione, da Palazzo d'Orlean giungono notizie frammentarie e sempre a mezzo stampa, dalle quali sembra emergere peraltro che la legge di stabilità non possiede quel respiro programmatico di cui la Sicilia ha bisogno. Lo sostengono i segretari generali di Cigelle e Cisleville siciliane, Michele Pagliaro, Mimmo Milazzo e Claudio Barone, in una lettera inviata al Presidente della Regione e all'assessore all'economia, per chiedere l'avvio immediato del confronto con le parti sociali sui documenti economico-finanziari. Lo scenario è drammatico, sottolineano i tre esponenti sindacali con 220.000 siciliani che hanno perso il lavoro, 320 famiglie nella fascia della povertà assoluto ed un indebitamento della Regione che supera quest'anno gli 8 miliardi. In questo contesto, concludono, il confronto con le parti sociali non può essere più rinviato. Riteniamo che la situazione del bilancio sia complicata. Da analizzare bene, ha sottolineato Milazzo, bisogna portare avanti quelle riforme sempre annunciate e mai concretizzate, come quella delle province, definendo assetti di governo di città metropolitane e liberi consorsi di comuni. È indispensabile ristrutturare la spesa affrontandone i nodi improduttivi, mentre si parla sempre e solo di subiti di personale. Emergenza rifiuti. La FIT-CISL chiede che si faccia chiarezza sul conferimento a Bellolampo dell'immondizia proveniente da 50 comuni del Palermitano. La vicenda del conferimento nella discarica di Bellolampo anche dei rifiuti prodotti nei 50 comuni del Palermitano richiede maggiori precisazioni da parte della RAP. Il dubbio forte, confermato dalle stesse dichiarazioni della società sull'assenza di contratti tra RAP e le singole amministrazioni locali e la mancanza di un calcolo preciso sui costi e ricavi è che si tratti di un'operazione poco chiara sotto l'aspetto tecnico ed economico. Ad intervenire così sulla vicenda del conferimento a Bellolampo di rifiuti provenienti da 50 comuni del Palermitano è Dionisio Giordano, segretario regionale FIT-CISL Ambiente, che attacca duramente le modalità con cui gli organi preposti stanno affrontando l'emergenza rifiuti in Sicilia. L'esigenza di rispondere ad un'emergenza, infatti, secondo Giordano non può essere il lasciapassare per operazioni poco trasparenti senza contare che le maggiori volumetrie di rifiuti conferiti circa 400 tonnellate in più al giorno determinano un rischio di maggiore produzione di percolato il cui prelievo, trasporto e conferimento nei siti doni per lo smaltimento è solo a carico della RAP con costi annui di milioni di euro. Vorremmo inoltre sapere, aggiunge il sindacalista, dato che mancano i contratti tra RAP e amministrazioni locali se prima di conferire i comuni pagano le somme dovute. Infine l'appello chiediamo chiarezza e trasparenza. L'Associazione delle Cliniche Private impugnerà il piano dei posti letti negli ospedali. Secondo Barbara Cittadini il provvedimento è illegittimo. Il piano appena pubblicato che riscrive la mappa dei posti letto negli ospedali verrà impugnato. Secondo l'Associazione delle Cliniche guidata da Barbara Cittadini il provvedimento dell'assessore alla salute Lucia Borsellino è illegittimo perché non rispetta una recente sentenza del TAR di Palermo che la scorsa settimana ha annullato uno degli atti propedeutici al piano della rete ospedaliere. Il Tribunale amministrativo, ha commentato la Cittadini, ha ritenuto immotivata la riduzione dei posti letto per acuti nelle strutture private senza procedere analogamente ad un taglio nei presidi pubblici. L'IOP aveva fatto ricorso contro un decreto di aprile che stabiliva un principio per adeguarsi ai parametri nazionali. Tre letti ogni mille abitanti i posti sarebbero stati tagliati partendo da quelli che erano previsti nella precedente programmazione e non invece da quelli che sono realmente attivi. Secondo l'Associazione applicando questo principio alle cliniche vengono tolti 227 posti letto mentre negli ospedali pubblici formalmente si riducono gli oltre 12.000 posti che risulterebbero dalla precedente programmazione. Nella realtà invece i letti addirittura crescerebbero. Si tratterebbe quindi di un passaggio chiave perché secondo le cliniche ciò consente al Governo di aprire nuovi reparti dove oggi non si potrebbe se passasse il principio che la Sicilia è già in linea con il numero di posti letto previsti da parametri nazionali. Il Comune di Palermo porta avanti la propria battaglia contro i parcheggiatori abusivi. L'amministrazione si farà promotrice di un'iniziativa legislativa volta a contrastare quella che ormai sembra essere diventata davvero una piega sociale. Il sindaco Leluc Orlando ha deciso di convocare un tavolo tecnico composto da giuristi, esperti di normativa del Codice della Strada e della Sicurezza, Polizia Municipale, Forze dell'Ordine e Associazioni dei Consumatori. Qui sarà chiesto di formulare una proposta di legge che il Comune sottoporrà a tutti i gruppi parlamentari della Camera e del Senato, cui compete la modifica o l'adozione dei provvedimenti legislativi necessari per il contrasto e la repressione del fenomeno dei posteggiatori abusivi. Orlando sottolinea come il Comune di Palermo si è impegnato da sempre al contrasto di questo fenomeno. Soltanto nel 2014 la Polizia Municipale ha elevato oltre 700 contestazioni e denunce, ma si ritiene comunque fondamentale richiamare l'attenzione del legislatore. L'ultimo increscioso episodio di violenza e prevaricazione risale proprio a ieri. Un giovane è stato aggredito al foro italico da un parcheggiatore abusivo che lo ha preso a pugni facendolo sanguinare e fuggendo poi a bordo di un motorino. Ovviamente tutto è scaturito dal rifiuto del giovane di pagare. Le scuole chiedono aiuto al Comune di Palermo per recuperare le palestre ancora inagibili. Ascoltiamo l'assessore allo sport Cesare Lapiana. Proprio ieri sera, anzi vorrei dire ieri notte, ero in riunione con l'assessore alle manutenzioni, alle infrastrutture, che è anche vice sindaco, e mi diceva il grosso sforzo che sta facendo per recuperare quelle palestre che ancora hanno qualche problema, e ce ne sono tante purtroppo a Palermo, una delle quali è stata proprio riconsegnata la settimana scorsa. È inutile ripetere ancora che si viene da 10-15 anni in cui gli impianti sportivi sono andati indietro, non so se per colpo o per non colpa di qualcuno, ma comunque sono andati indietro. Adesso poco a poco si dovranno riprendere. Lei capisce che riprendere il palazzetto, piuttosto che il campo di baseball, piuttosto che il velodromo, che non hanno proprio neanche le caratteristiche ormai tecnologiche tali da poter restare in piedi, è un grosso problema e ci sta lavorando. Noi abbiamo chiesto l'aiuto alle forze dell'ordine, perché diventa un problema di ordine pubblico, non è proprio un problema di sport, se l'impianto è bello o è brutto. Quando viene vandalizzato, non sarà né l'assessore allo sport, né l'assessore alle infrastrutture, ma neanche il sindaco deve provvedere. Quindi abbiamo chiesto aiuto alle forze dell'ordine, si è riunito il Comitato per la Sicurezza e ci è stata data veramente una grossa mano e delle ottime prospettive. Al via a Palermo, la prima rassegna nazionale Immaginarte, che offre il suo contributo all'AIL per la ricerca sulle leucemie e i linfomi. Si parte oggi pomeriggio alle 18.30 nello spazio Cannatella, in via Papireto 10, con lo spettacolo C'era una volta, la questione morale di Stefania Moulet. Seguirà l'incontro con gli ospiti Salvo Vitale, Salvatore Borsellino e Nadia Furnari dell'Associazione Rita Atria. Sarà presente anche Pino Toro, presidente di AIL Palermo. Si ricomincia a sciare sull'Etna. La perturbazione ancora in corso ha già fioccato circa 30 cm di neve fresca che consentiranno di rimettere in moto gli impianti di risalita della stazione scistica di Piano Provenzana, sul versante settentrionale del vulcano. I tecnici di Star Funivie dell'Etna hanno operato senza sosta per battere le piste e da oggi è possibile sciare anche nella famosa pista Coccinelle, riservata agli sciatori più esperti, che permette di arrivare oltre quota, 2.500 metri. Porte aperte al liceo classico scaduto di Bagheria per presentare l'offerta formativa. L'intervista. Oggi stiamo continuando la festa di venerdì scorso che l'abbiamo appunto celebrato nell'evento nazionale della festa, la notte, il liceo classico. Oggi proprio la giornata è dedicata a Open Day perché è importante che i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado, del territorio, dei paesi limitrofi, e i loro genitori. I loro genitori ovviamente hanno la possibilità di conoscere gli spazi, praticamente le strutture, le attrezzature presenti, i laboratori, le attività che realmente i ragazzi fanno. È stato un bellissimo momento perché è stato presentato quello che è il curriculum tradizionale integrato del liceo classico perché grazie all'utilizzo della quota dell'autonomia, ai sensi dell'articolo 10 del DPR 89 del 2010, noi riusciamo ad offrire agli alunni a partire dagli ultimi tre anni, secondo bienno e quinto anno, una disciplina aggiuntiva, cioè storia del teatro, storia del cinema, storia della musica. Ma abbiamo pure un progetto che è importantissimo, quello di ESABAC, che l'acronimo significa esame di stato e baccalariato. Cioè alla fine i ragazzi, anche con l'aiuto di un assistente di lingua francese, consiglieranno poi, se superano gli esami, ovviamente il diploma italiano e il diploma francese spendibile in Europa. Oggi e domani, breve tournée del coro di Russia cristiana in Sicilia. Invitato a Morreale in occasione della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, che quest'anno ha come titolo Dammi un po' d'acqua da bere, animerà tre divine liturgie. Oggi alle ore 17.30 alla Cappella Palatina di Palermo, domani alle 11.30 al Duomo di Morreale e alle 18 al Duomo di Cefalù. La Divina Liturgia è una messa cattolica celebrata secondo il rito bizantino-slavo. Viene celebrata in parte nella lingua della chiesa russa e in parte in italiano. È quasi interamente cantata, per questo il coro è molto importante. Una festa per gli amanti della buona musica e dello swing in particolare. Un concerto con rivisitazioni di brani anni 60 e 70 di Domenico Modugno, Frank Sinatra e Vinicio Caposella. L'appuntamento è per stasera alle 21 con Quintet Sound and Friends in Fantasia di Fiati, a cura della compagnia teatrale Pino Chinnici, in scena al teatro Crystal di Via Mater Dolorosa con replica domani pomeriggio alle ore 18.30. Dopo il notiziario andrà in onda la rubrica settimanale Media News Extra curata da Marilisa Ciammone. In questa puntata l'intervista a Ciro Di Uolo, presidente del Corecom Sicilia. E con quest'ultima breve nota è davvero tutto. Vi ringraziamo per la gentile attenzione prestata augurandovi un sereno fine settimana.